Entriamo nel tema del discernimento. Come per fare l'educazione della coscienza ci sono stati dei grandi maestri che ci hanno accompagnato e noi ci siamo fatti guidare da Ignazio di Noiola, anche per il discernimento ci sono stati dei maestri. E quello che io scelgo e che vi propongo non è un metodo nato su riflessioni generali ma è nato nella periferia di Bruxelles ad opera di un prete, l'abbé Léon Carden che accompagnando dei giovani operai dinanzi a delle situazioni di lavoro disastrose si sforzò di donare loro un metodo per migliorare il loro quotidiano e capirne il senso. Era convinto che solo gli operai avrebbero potuto convertire gli operai avvicinati al Vangelo e senza staccarsi dalla realtà propose questo metodo che si chiama la revisione di vita che si muove e si concretizza in tre momenti, vedere, giudicare e agire. Il metodo ebbe una fortuna straordinaria. Già lo scelse Papa Giovanni nell'enciclica Mater e Magistra quando dice che per mettere in pratica i principi sociali si passa in generale per tre tappe lo studio della situazione, l'esame serio di essa alla luce dei principi e la determinazione di ciò che può essere e deve essere fatto. Anche il Papa Francesco usa lo stesso metodo nell'Evangelii Gaudium e anche nell'Amoris Laetitia. In altri termini tanti hanno usato il metodo, cambiando le parole, ma la sostanza è quella. Cardinale Martini ad esempio usava dire riconoscere, interpretare e scegliere, ma che è sinonimo di vedere, giudicare e agire. Buona lettura.